Ciao ragazzi, Giacomo Bolzoni Allora, questo video non sapevo come intitolarlo ho deciso di chiamarlo io e gli sponsor come sappiamo, soprattutto negli ultimi anni, in questa disciplina che è il tiro dinamico, si stanno facendo davvero tanti sponsor, anche aziende molto importanti oltre ai costruttori di armi e sapete che il mio sposo principale è la Tanfoglio è dal 2016 che mi supporta e poi ogni giorno viene fuori sempre qualcosa di nuovo un po' grazie ai social, un po' grazie alle vittorie ai sacrifici e un po' di tutto 5.11 per l'abbigliamento Crispi per le calzature ma tantissimi altri per accessori per il tiro per la ricarica, per la pulizia delle armi, eccetera ma in questo video non volevo parlare dei miei sponsor famosi ecco quelli grossi quelli importanti ma volevo parlare dei miei sponsor quelli di fiducia che mi hanno sempre sostenuto fin da quando sono sono uno sbarbatello e fin dai primi anni di tiro nessuno mi conosceva all'epoca ero promettente però comunque sparavo per divertirmi ok? come del resto poi la maggior parte dei tiratori non non pensavo o perlomeno speravo ma magari non pensavo che poi in un futuro sarei riuscito magari a raggiungere certi certi livelli e quindi sì mi divertivo e basta ecco però io ho cominciato a sparare che ero un ragazzo ragazzetto io ho cominciato a sparare a 16 anni e poi nel 2009 2010 quindi intorno ai 19-20 anni ho cominciato a fare le prime garette il bronzo eccetera eccetera ovviamente per un ragazzo di 20 anni fare fare sacrifici per acquistare la polvere le palle gli inneschi e mi ricordo che magari uscivo una volta in meno alla sera perché risparmiando 20 euro per una pizza mi potevo comprare mille inneschi cose che oggi mi sembrano assurde che però per un ragazzo di 20 anni non sembrano ma ma conto e quindi io in questo video vorrei ringraziare chi mi ha davvero sempre supportato fin dagli albori ok che sono due piccole realtà del mio paese di Sassuolo piccole diciamo per la loro come posso dire per la loro fama ecco però per me davvero molto importanti che sono Ernest il ristorante Ernest qua di Sassuolo e l'azienda di mobili mobili da bagno Gaia queste due aziende ok queste due realtà sono tenute in piedi da persone davvero molto importanti per me e per la mia famiglia sono cari amici di famiglia che fin da appunto fin da quando io ero ragazzo mi hanno sostenuto concretamente e quindi li ringrazio perché anche grazie a loro sono riuscito a comunque a compiere parte di quello che è il mio percorso sportivo e quindi ringrazio davvero la Sivia la Roberta la signora Miranda appunto del ristorante Ernest e che sono amiche proprio di famiglia quasi parenti e e poi Oscar e la Gisella dell'azienda Gaia e anche loro amici cari di famiglia e se non fosse stato per loro probabilmente non sarei qui ecco perché comunque anche loro mi hanno aiutato concretamente quindi questo era un piccolo video per ringraziare chi davvero ha creduto in me fin dall'inizio e poi per ringraziare anche chi tuttora grandi aziende crede in me e mi supporta quotidianamente ci vediamo presto ragazzi